Purtroppo una nuova crisi si è aperta e se non verrà risolta in tempo potrebbe creare uno squarcio nell'economia globale. In seguito alle ultime notizie, il petrolio in effetti ha reagito con forza, registrando un aumento quasi del 7% negli ultimi 5 giorni. La minaccia di cui parliamo amici proviene dal Mar Rosso ed è una diretta conseguenza del conflitto fra Israele e Hamas. Quello che abbiamo di fronte è una specie di triangolo delle Bermuda che minaccia la stabilità di una delle rotte commerciali più trafficate al mondo. Ma tra poco ci arriviamo. Questo che vedete ragazzi è il Mar Rosso. Si trova tra la costa nord-orientale dell'Africa e la penisola arabica. Comunica con l'oceano indiano a sud-est tramite lo stretto di Bab el-Mandeb e con il mar mediterraneo a nord-ovest attraverso il canale di Suez. Il Mar Rosso bagna otto paesi, tra cui Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Israele e soprattutto lo Yemen. Dal punto di vista economico, le sue acque sono fondamentali per la macchina economica mondiale. Per quale ragione? Perché consente il passaggio veloce delle navi mercantili tra l'Europa e l'Asia, senza dover circomnavigare l'Africa. Questo riduce enormemente i tempi e i costi dei trasporti. Pensate che il Mar Rosso rappresenta la via da cui passa il 30% del traffico container globale e il 12% di tutto il petrolio trasportato nel mondo. Se questa via venisse bloccata, le navi sarebbero costrette a fare il giro dell'oca per arrivare a destinazione. Infatti l'alternativa è il passaggio dal capo di Buona Speranza, tratto più sicuro ma anche molto più lungo e dispendioso, poiché allunga i tempi di 2-3 settimane. Quindi qui la grande fregatura risiede nel collegamento tra l'Asia e l'Europa. Senza il passaggio attraverso il canale di Suez, le navi sarebbero costrette ad allungare il tragetto del 40%. Dunque, i problemi sono iniziati da quando i ribelli Uti, sostenuti dall'Iran e alleati di Hamas, hanno iniziato ad attaccare le navi mercantili attraverso lo stretto Bab el-Mandeb, che si trova tra Yemen e Djibouti. Secondo le fonti del Pentagono, fino adesso gli Uti hanno lanciato più di 100 attacchi, prendendo di mira 10 navi mercantili. Invece a novembre avevano sequestrato la Galaxy Leader, prendendo in ossaggio 25 membri dell'equipaggio, i quali sembra che siano ancora in Yemen. Attualmente numerose compagnie di navigazione hanno deciso di non passare più attraverso il Mar Rosso, per evitare che gli attacchi con droni e missili balistici mettano in pericolo gli equipaggi e i carichi dei clienti. Tra queste ci sono MSC, CMA GM, APAG Lloyd e la compagnia petrolifera BP. Queste sono quattro delle cinque maggiori compagnie di spedizioni di container al mondo. Questi colossi ragazzi hanno dirottato le loro navi verso il Capo di Buona Speranza, all'estremo sud dell'Africa, aggiungendo circa due settimane al tempo di viaggio e aumentando i costi ovviamente. Se la situazione nel Mar Rosso non dovesse migliorare, altre compagnie di navigazione potrebbero seguire la scia e di conseguenza generare caos che andrebbe a ripercuotersi sul commercio globale e sulla stabilità della regione. Se la situazione dovesse incendiarsi ulteriormente sarebbe un grosso guaio, in quanto un terzo della produzione globale di petrolio è ubicata nel Medio Oriente. Nel caso in cui si dovessero verificare interruzioni al passaggio delle petroliere, i prezzi dei beni che consumiamo giornalmente salirebbero di nuovo alle stelle, esattamente come è successo dopo l'invasione russa in Ucraina. Il problema qui è che gli UTI controllano lo stretto di Babel Mandeb, attraverso il quale passano tutte le navi che trasportano beni e materie prime verso i paesi occidentali. Ma in tutto questo caos, indovinate un po' chi rischia di andare incontro alle conseguenze peggiori? Ancora una volta noi, europei, che importiamo gran parte dell'energia proprio dal Medio Oriente. Se tutte le navi cominciassero a deviare verso il capo di Buona Speranza, i costi delle spedizioni salirebbero e l'inflazione potrebbe risvegliarsi con forza, alimentando i timori per una recessione più acuta. In questo panorama, il fattore che desta particolari preoccupazioni è proprio il commercio energetico. E non mi riferisco solo al greggio, ma anche al gas naturale liquifatto. Pensate che ogni giorno circa il 9% del GNL trasportato via mare passa per i canali di Suez. Quindi ora ci rendiamo conto di quanto sia fragile in effetti l'economia globale. Basta mettere una croce su un piccolo passaggio ed ecco che si può andare incontro ad una nuova crisi inflazionistica. Per cui l'Europa ancora una volta rischia di rimanere con le gambe spezzate. Dopo il disaccoppiamento dalla Russia, anche le tensioni provenienti dal Mar Rosso potrebbero dar vita a un secondo round di problemi economici per noi. Dovete sapere che l'Europa riceve molte forniture energetiche da paesi come il Qatar, per esempio, le quali passano attraverso lo stretto di Hormuz, anche questo molto vulnerabile a possibili attacchi dell'Iran, e poi giungono nel Mar Rosso. Quindi se gli attacchi d'aiuti dovessero continuare, non solo i nostri rifornimenti sarebbero più costosi. Ma impiegherebbero delle settimane in più per arrivare in Europa. Considerando che siamo piombati nel pieno dell'inverno e abbiamo bisogno di energia per scaldarci, queste ragazzi non sono belle notizie per noi. Ovviamente ci sarebbe una soluzione, fare affidamento sugli Stati Uniti, i quali però non sono mica disposti a regalarci dei buoni sconto. Infatti dovete sapere che il nostro partner americano ci vende il suo gas naturale a un prezzo che è 4 volte superiore a quello che vende agli industriali americani. Comunque in questo scacchiere geopolitico, se ci pensiamo logicamente, le tue superpotenze maggiori non vengono impattate. Infatti gli USA sono autosufficienti o al massimo possono contare sull'appoggio dell'amico canadese, mentre la Cina importa l'energia che le serve dalla Russia o dall'Arabia Saudita. Il più grande perdente rimane ancora una volta l'Europa. Ovviamente gli americani stanno cercando in tutte le maniere per evitare lo scenario peggiore. Difatti per contrastare gli attacchi dei UTI alle navi mercantili hanno creato una coalizione navale multinazionale alla quale si è unita anche l'Italia. Gli Stati Uniti hanno avvertito i UTI di mettere fine agli attacchi nel Mar Rosso. Questi ultimi però non fanno un passo indietro e continuano a lanciare missili e droni verso le navi, alcune delle quali peraltro non hanno a che fare nulla con Israele. Ora però gli occhi del mondo sono puntati non solo sul Mar Rosso ma anche sullo stretto di Hormuz che abbiamo citato prima, attraverso il quale transitano 20 milioni di barili di petrolio ogni singolo giorno, da cui influiscono i rifornimenti provenienti dagli Emirati, dall'Arabia Saudita, dal Kuwait e dal Qatar. Se l'Iran decidesse di intervenire più attivamente nel conflitto e metterci bastoni tra le ruote, anche questo stretto verrebbe compromesso e a questo punto i prezzi del greggio potrebbero davvero andare alle stelle. La banca centrale americana di recente ha rivelato come abbia intenzione di tagliare i tassi per tre volte nel 2024, nonostante l'inflazione corsi ancora al 4%. Però pensate che figuraccia farebbe Powell se cominciasse a tagliare i tassi e poi un'altra crisi petrolifera prendesse spazio sulla scena. Di certo la credibilità della Fed andrebbe a farsi benedire. Insomma ragazzi adesso sarà curioso vedere se la coalizione dei paesi occidentali riuscirà a scoraggiare gli uti a condurre nuovi attacchi. Secondo voi questa storia porterà un lieto fine oppure solo l'inizio di una crisi ancora più grande? Speriamo di no. Per oggi è tutto, ciao e al prossimo video.